Aspetta come vi è venuto a sto cazzo di video Comunque fa il Frosinone 0 a 0 Poi va del Milano e poi vince allo scadere con Romagnoli Ma come cazzo si fa? Ti ho visto a me, porca puttana Andate Frosinone che li ricorda Se li ha mangiati clamorosamente salvaggi Una linea del Sisa Poi da quando abbiamo cambiato moto Dal 352 che era un moto superficiale, banale e piatto Che non si riusciva mai a segnare Ma veramente di merda Da quando si è andato in ritiro passando al 342-1 Conciano gambe, le giovani Davanti si sono un po' rimodellate le faccende La squadra cominciava a rispondere sul campo Però Frosinone insistiva All'ultimo poteva andare anche in vantaggio Poi non si è andato a 60 gol Ma come cazzo si fa? Come cazzo? Quando guarda il Milan Sto cazzo di Udinese se l'ha fatta da sola i gol Ha perso 300 palloni Si è mangiata 300 gol a centro campo In mia mancava Cialanoglu, Biglia, Suso Mancava un sacco di gente Tutti erano quasi su tutte riserve Poi mancava La gente che c'era in giocazione Lo scadete da Romagnoli Che solo con questi cazzo di supplementare Di mezzi supplementari Di mezzi di minuti extra large L'Udinese ha perso palla 300 volte Stava... Quegli biastemi Spacchi tutto Ha perso palla in contropenze Li sono ingulati Se il Milan lo vuole a fare Romagnoli In due partite e due gol E poi con la due gol Ho compreso Ma come cazzo si falla Viene? Cioè diciamo Perché questa è stata una partita Un po' Un po' Nel mio che ha giocato Come c'è L'ho anche benito L'Udinese Qualche chance La puta ma Ma come cazzo si falla Poi ti valla a 100 campi E ti si inculano Sempre così Sta cazzo L'Udinese di merda Pia con il dovere Pia con il mio L'amore A sfruttare Così Perché se no L'Udinese avrebbe perso La marea di punti Noi dell'Inter Noi per noi Noi abbiamo culo A vincere il terzo alla fine Pure voi siete straculati Oltre i minuti regolari Andate a vincere la fine Comunque Ora mi sapevi che cazzo Mi ha pensato Mi ha buccio di culo Ma sempre sotto a noi Sare all'Inter Mi ha vinto il terzo Perché se mi ha aperto il culo Come cazzo mi ha pensato Scrivetevi a sta cazzo di pagina Come voi Fui